Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente dopo tantissimo tempo in un nuovo video reazione Ragazzi oggi vedete una facecam posizionata in una maniera particolare perché il video di oggi è davvero speciale Difatti ragazzi andremo sia a fare una reazione come nostro solito a un hack di pokemon in questo caso di pokemon solo e di pokemon luna Ma ci verrà presentata sotto forma di un trailer per un possibile ultra sole e ultra luna Difatti il creatore ha pensato bene di modificare alcune caratteristiche del gioco per poterne tirare fuori un trailer che potesse essere in un qualche modo riconducibile a poco un ultra sole e poco un ultra luna Quindi ci saranno delle modifiche della trama ci saranno tantissime belle cose Ne ho visto un pezzetto e ne ho visto qualche scorcio per vedere se meritava e ho visto delle cose già ragazzi che veramente Poi vi dirò quelle che ho visto e quelle che non ho visto Comunque suppongo siano molte poche quelle che ho visto Di conseguenza ci sarà molta sorpresa anche per me In questo caso ragazzi voi sentirete l'audio io no perché essendo un trailer secondo me aveva senso che voi sentiste l'audio Io non posso sentirlo perché il programma con cui registro non me lo consente In ogni caso se questa serie vi piace mi raccomando come al solito lasciate tanti like Ma soprattutto consigliate nei commenti altri video a cui fare reazioni Lo state già facendo e ne ho già alcuni salvati ai quali farò delle reazioni in futuro Vi ringrazio davvero tanto per il seguito che sta avendo questa serie come al solito e spero che continuerà così L'intro è già durata troppo stiamo registrando è tutto a posto Spero che il video non venga una merda perché non so più settare OBS Premiamo il nostro pulsantino magico Vai così perfetto Nintendo 3DS 2DS Ok la facecam coprirà alcune Welcome back to Alola La facecam coprirà alcune cose ma non importa Enjoy your stay and explore Alola Ok esplora Alola di nuovo come sole e luna Ok si avevo notato già la grafica Unreal Engine Familiar faces different story Ultra lirico oddio That's where Yuki special dragon Ok allora la lega è diventata improvvisamente la prova di tipo drago Ebbè obo che cazzo è obo I never forget to keep Ok perfetto quello lì era Mr. Royale che è diventato un obo Special 2D animated cutscene Ah questo qua l'avevo visto infatti mi chiedevo che cazzo fosse Ok perfetto praticamente ci sarebbero nel gioco delle scene animate Nuovi personaggi Professor Mohon Cioè perché Pokémon quindi Mon Benvenuto sono Professor Ok va bene Ah giustamente è vero Letter Foundation Ma è il marito di Lily Queste di Buonanotte di Samina Scegliono di questi Pokémon per accompagnarti nel Ultra Oddio Oddio è drogatissimo Ok questo è fatto di Keta raga tantissimo Each evolution stage improves your ultra armor Ah ok ogni evoluzione migliora Cos'è qualcosa Io faccio finto di non aver vito Ok c'è una migrazione di Owen I heard the front of your brain went missing too That's why the Heather Foundation is here Ok praticamente si è rotta la barriera corallina Doe nella Heather Foundation sta accogliendo la roba Nuovi modi di evol... Oddio Cos'è sta roba Mimmi che si evol... Beh Ok c'è la Facecam che lo cover però Lo sto vedendo veramente Libera 666 Eevee nella natura Perché? Perché dovrei liberare... Ultra Stone Another Worldly Evolution Ok quindi un'evoluzione di un altro mondo Cioè cosa mi sei... Oddio Oddio la troga raga che cazzo Cos'è sta roba? Ok si stanno evolvendo Ok Ok A tutto senso A tutto senso Cabuto si evolve in firomosa Amazing new features Neppy daycare Ah ok la pensione di nebulino Prendi di co... Cos'è? Nutrili con umani e po... Perché sta cadendo nel trash sta cosa? Race to the bag Daycare sta... Ah ok L'evoluzione della pensione di nebulino Ok Ok perfetto Cioè praticamente Costeroid Abilità Borsa fobia Fa più danni quando una borsa è attorno a lui Ok Va bene così Tending service Ok Questa roba l'avevo vista anche questa ma non sapevo che caso fosse Non so cosa sia attending service vi giuro Vuoi tennare per 10 minuti o un'ora? Cambia il colore della pelle del tuo pokemon A shiny tan Ma non so come... Ma rifiuta Il tuo poplio è appena stato fritto Ok perfetto Se evolvete i po... Cos'è? Perché il team Lily? Perché? Cos'è sta no? Vabbè ragazzi Prima ci hanno fritto il poplio Perché l'abbiamo tenuto troppo sotto le lampade Carlo Conti Levati Ok Perfetto Questo qua è il team di Lilia praticamente Cioè Cioè almeno Ah no Lilia fan club Attenzione Il fan club di Lilia che tenta di conquistare la regione probabilmente Introducing lolly I'm lolly Depress Ah Originale Il mio sogno è conquistare lolly e cambiare il suo nome in al lolly Una fanatica di Lily che si veste come lei E si fa nominare come lei Questa è stata gravissima Ultra Lily She's like regular Lily but it's self-aware and can't speak in japanese Ok perfetto E' come Lilia ma è tipo consapevole della sua esistenza Self-aware una roba del genere E parla giapponese così dal nulla Will you have team Lily evolve? No Non aiuta il team Lily a chiamare la regione di alola lolly E io che pensavo che lo scopo del team magma fosse inutile Questa è l'inutilità Tra l'altro la grafica in real engine raga è spettacolare Però io avevo visto alola in serious crisis Allora ora Un vero so Allora Ok questa è stata bellissima A parte che il fuoco è palesemente una gif Ci sono molte altre cose che ti aspettano Ah gym leader l'hanno così Out of nowhere Questo si sta mega evolvendo dal nulla Will kind of thoughts are cute and love will there And you Ma perchè fammi leggere Raga cosa ho visto prima Spettacolare colpo di genio Cioè praticamente alola c'ha un pokemon sole Un vero sole E un pokemon ultra sole Sole E un pokemon ultra E pokemon Vabbè avete capito in sostanza Ho visto delle cose Datemi tempo Ok ragazzi Eccoci qua Con questo Con il letto spatto Tutto a posto E nulla Pensavo fosse sinceramente un pochino più serio In realtà poi è caduto nel trash Va benissimo anche così Cioè nel senso A noi va bene il trash Ci piace un sacco Quel Rayquaza con la faccia di Vi penso di non scordarmelo mai nella vita Il colpo della Da lola in crisi Perchè c'è un vero sole Un pokemon sole E un ultra pokemon sole E' stato spettacolare Fatemi sapere qui sotto nei commenti Qual è stata la parte di video Che vi è piaciuta Più di tutte E mi raccomando Lasciate un mi piace Se vi è piaciuto il video Se vi è piaciuto il video Che cazzo è un nuovo autore latino Piaciuto Dicevo Se vi è piaciuto il video Lasciate un bel mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando ragazzi Fondamentale per il proseguo Congrodico Non so più parlare oggi Vai che sono le 9.40 Però non so più Insomma commentate Consigliandomi altri video A cui fare reazioni Passate i social in descrizione Per rimanere sempre Aggiornati sulle attività Del canale E premete la campanella Per ricevere invece I feed dei video A meno che questi Non partano in Congo In quel caso Non ci possiamo far nulla Però sapete un po' Come va YouTube Detto ciò ragazzi Io vi saluto E noi ci becchiamo In un prossimo video E noi ci becchiamo